Quando si sposa un programma bisogna seguirlo fino in fondo, non conta i proclami, le promesse se non c'è una base di verità. La base di verità qual è? Il nostro programma, non ho mai detto il mio, il nostro. Punto 1, riporto Battistuta a Firenze come gli è gli è, lo riporto. Punto 2, levo la VAR. Punto 3, Champions League e Europa League da aprile a ottobre. Punto 4, si spiana la calvana, così, questo per fare un po', levare un po' di nebbia, perché un programma elettorale si basa su fatti, non promesse, e questo si è già capito, a spese nostre purtroppo, ora basta. Qual è il primo problema impellente del momento della nostra zona? Il ponte, dai venerdì ai lunedì, il ponte è superato, non li fanno più da nessuna parte, e allora adeguiamoci, non si foda, non si costruisce, non si cementa, si fa un'altalena, un'altalena da parte a parte, che ogni 7 secondi porta gente, uno ski lift senza neve. È superato il ponte, quale ponte? L'altalena, ma grossa eh? E' un'altalena.